amici ascoltatori salve d'alberto fiano buonasera l'immancabile appuntamento il punto sulla roma dopo roma chievo del 22 dicembre ovviamente corrente anno che dire vittoria doveva essere vittoria è stata una roma che parte in sordina poi dopo 15 minuti di gioco comincia a carburare crea pericoli sorrentino in formato batman sventa molte minacce due episodi dubbi in aria per fare su gioco e sarà poi al secondo contropiede sempre con de guzman il quale già dieci minuti prima aveva sfiorato il gol questa volta non lo sfiora il gol lo fa di testa e al trentasettesimo minuto del primo tempo porta in vantaggio il chievo la reazione della roma è rabbiosa non si scompone dimostra sangue freddo e quindi poi alla proprio all'ultimo di recupero del primo tempo con una gran punizione del sciarawi veramente una esecuzione balistica eccellente firma l'una uno importantissimo andare all'intervallo in parità e non sotto di un gol la ripresa la roma inizia con grande piglio è sempre sciarawi davvero migliore in campo oggi sontuosa la prova dell'esterno offensivo italo egiziano che sradica un pallone dal difensore del chievo è capabile nell'azione entra in aria e serve a gioco l'assist facile facile per il gol del 2 a 1 e da qui la partita poi per la roma è in scioltezza crea ancora molte occasioni e due volte ancora con gieco si supera ancora una volta anzi per due volte sorrentino poi la roma fa appunto chiude la partita al minuto 90 con un rigore netto procurato e trasformato dallo stesso perotti perotti anzi e quindi 3 a 1 gioco partita in contro incontro per la roma appunto spalletti esulta sotto la curva sud laterale l'olimpico i 25 mila dell'olimpico sono in festa la anche a livello mentale la sconfitta di torino sembra superata quindi veramente migliora come dire il modo per chiudere l'anno non poteva esserci e ricordiamo che nell'anno solare da quando spalletti è arrivato alla roma ossia a gennaio del 2016 fino a dicembre del 2016 ha fatto 84 punti solamente la corazzata juventus ha fatto di più circa 12 o 13 punti in più e quindi questo è tutto dire sul lavoro buonissimo che ha fatto spalletti da quando è tornato a roma ovviamente manca ancora quello quello step finale da poter far sì che la roma possa regalare una gioia indescrivibile indescrivibile ai suoi difusi per il resto non nient'altro da aggiungere la sosta arriva al momento giusto forse per alcuni tipo i turbe è molto probabile che sia stata l'ultima parizione all'olimpico con la roma per quest'anno e si spera ora di recuperare gli infortunati sarà dice arrivederci tornerà a febbraio perché già da domani risponderà alla convocazione in coppa d'africa collegito con per la competizione che si svolgerà appunto in gabonna e quindi ci auguriamo che la società oltre al ormai acquisto imminente e salvo imprevisti dell'ultima ora appunto diciamo che e speriamo che non ci siano imprevisti rincon il centrocampista del genoa dovrebbe approdare appunto a trigoria ci auguriamo anche un altro esterno offensivo in grado di sopprire all'assenza di sala anche se oggi l'esterno egiziano non era nelle sue sterrate migliori la ci ha fatto piacere anche rivedere in campo per male la sua prova la sua prova infatti è stata è stata molto buona e questo è davvero tutto la roma ora ha otto giorni di vacanza ritornerà a trigoria se non erro il 28 al 29 per riprendere la preparazione appunto in vista dell'otto gennaio data in cui si presenterà a Marasti contro il Geroa di Iuric e quindi adesso auguriamo un gran un gran bel sereno natale felice alla roma e a tutto il suo staff a giocatori tecnici allenatori presidenti e con le proprie famiglie anche un buon anno nuovo anche il punto sulla roma tornerà l'otto gennaio quindi io a tutti voi ascoltatori auguro un sereno natale felice natale con le vostre famiglie e con i vostri cari una buona inizio è un buon una buona fine un buon principio di nuovo anno passo ai saluti e agli auguri anche al mio amico roberto de angelis conduttore di questa e la roma che ogni venerdì insieme a stefano tini mi dà l'onore il piacere di partecipare appunto come opinionista alla sua trasmissione radiofonica saluto la mia amica dottoressa in logopedia edizione nonché anche bravissima attrice teatrale e cantante analisa peruzzi per chi fosse interessato alle sue materie può contattare la sua pagina facebook saluto la giornalista noemi pierini e faccio anche a lei migliori auguri di buone feste come un grande saluto e migliori auguri di buone feste faccio anche ai miei amici di roma del credito dove io sono speaker e opinionista con la trasmissione spqr in onda dal lunedì al venerdì ma io ci sono il lunedì dalle 12 alle 14 e anche lì tornerò il 9 gennaio fulvio micozzi andrea materia e marco santarelli e anche il dottor marco lupi anche a loro il mio più grande saluto e auguri di buone feste anche a loro nonché anche al mio amico nicola caprera degli inascoltabili di rds e di guglielmo timpano e a flavio marietta stotti colonne della trasmissione del giovedì sera sui tele roma 56 dall'avventura alle 22 e 45 gioco pericoloso dove io intervengo con analisi tattiche e pronostici sulle avversarie delle romane di appunto e anche a loro i miei migliori auguri alla giornalista e mia amica noemi pierini tanti tanti auguri di buon anno e buon natale anche a lei un saluto grande e faccio auguro un buon anno e mando un grande saluto anche alla giornalista amica mia della ex gazzetta dello sport grande difusa del della roma appunto natania di porto e concludo con un saluto l'ultimo saluti ma no perché la considero ultima legge mancherebbe altro perché è una straordinaria artista nonché anche meravigliosa persona la mia amica elda al vigini appunto alias stefania masetti nella serie di ceteroni per chi non la conoscese ma è impossibile che non la si conosca quindi anche a lei un grande saluto e migliori auguri buon natale e buon anno anche a voi e ricordo anche che nella agenzia di via del mago alberto in mia ganglia 141b come bologna in zona prati per chi venisse a trovarci a nome delle trasmissioni questa è la roma spqr romator credio e appunto gioco pericoloso pronunciando la parola magica dai roma dai avrà in regalo una giocata da 10 euro che regalerà la sala o da giocarsi appunto al virtual game oppure al bettico sia scommesse reali è davvero tutto vi ringrazio e seguiteci sempre mi raccomando anche a voi ascoltatori i miei migliori auguri di buone feste e ci sentiamo e ci risentiamo anzi con l'anno nuovo per roma talk radio per radio roma sport scusate è davvero tutto buonanotte e ciao da alberto fiano e sempre più che mai daie roma daie crediamoci perché non è finita io e ti abbiamo avvisato ciao ciao